Il docente tecnologico. Questo libro è frutto di tutte le richieste ricevute da centinaia di docenti di musica incontrati nei miei corsi Curcif a scuola e da vent'anni di esperienza e insegnamento della musica in classe, in ogni ordine e grado. È un libro pratico ma completo, spiegato in modo semplice e che vuole avvicinare ogni docente, anche non tecnologicamente esperto, all'utilizzo consapevole e graduale della tecnologia musicale in classe, intesa come arricchimento della propria didattica. La tecnologia non mira a sostituire i vostri metodi di insegnamento tradizionali, ma piuttosto ad arricchirli. Il libro si compone di diverse sezioni. La formazione docente, numerosi capitoli dedicati alla formazione del docente circa la tecnologia musicale e a come progettarla e introdurla in classe. Le caratteristiche dei tre mondi digitali, audio, midi, video. Come utilizzare al meglio l'audio, il midi e il video digitale per la didattica musicale. Le aree tematiche della musica, dove vi viene indicato come la tecnologia può inserirsi nei vari ambiti della didattica musicale per potenziarne, consolidarne e diversificarne l'apprendimento. Le schede come scegliere, capitoli con consigli pratici su come scegliere e quali caratteristiche devono avere i dispositivi e i device dedicati alla musica. Realtà virtuale, realtà aumentata e intelligenza artificiale. In questa sezione daremo un breve ma curioso sguardo al nuovo che avanza. Trucchi e consigli, la risposta alle domande più frequenti ricevute dai docenti durante i miei corsi Curcif a scuola. I box consiglio, centinaia di consigli pratici sparsi in tutto il libro che vi accompagneranno nelle decisioni rendendo il vostro lavoro molto più fluido e semplice. Le schede di approfondimento che riportano informazioni utili sugli aspetti fondamentali della tecnologia musicale. Le sezioni lo sapevate che, ovvero uno spaccato sulla storia e sulle curiosità del mondo della tecnologia musicale. Annesso al libro troverete anche una importante sezione digitale ad accesso riservato, dove potrete consultare 50 schede progetto, ovvero lezioni esempio pronte all'uso che vi suggeriranno come utilizzare la tecnologia musicale su diversi argomenti di didattica musicale. Elenchi dettagliati di decine di app e software e siti disponibili suddivisi secondo le aree tematiche musicali. Vi permetteranno di avere subito una visione chiara di quali elementi potrete integrare nelle vostre lezioni. Non è necessario essere esperti informatici o avere competenze tecniche avanzate per diventare docenti tecnologici. Ciò che conta davvero è la volontà di esplorare con curiosità le nuove frontiere della didattica. Ci vediamo in libreria, vi aspetto. Buona musica a tutti! Grazie a tutti!